Ciao a tutti e bentornati al canale di Alfa348 con oggi finalmente cominciamo a lavorare veramente con la computer vision innanzitutto installiamo le librerie che sono le librerie che ci forniranno i mezzi con cui possiamo elaborare le nostre immagini abbiamo nel video precedente installato il WNC server questo ci faciliterà il controllo in remoto dei risultati ma adesso subito partiamo con l'installazione delle librerie ci colleghiamo in root, non ci serve la parte grafica per il momento facciamo così ok, allora puliamo il tutto allora, il sistema è pulito e aggiornato se non vi ricordate come si fa utilizziamo pget upgrade anzi prima update una volta eseguito questa operazione basterà lanciare l'upget l'upgrade così siamo sicuri di avere un sistema aggiornato ok, una volta fatto l'upgrade cominciamo a installare le prime librerie quindi apt-get install cominciamo con li python successivamente il python opencv poi installiamo python shippy scritto così python ho sbagliato numpy e il python python setup tool tools e per finire il python pip package python package index questo ci servirà poi per l'installazione delle simple cv che sono quelle che utilizzeremo con la ccam ok lanciamo il comando vediamo se tutto è stato scritto in maniera corretta alcune cose sono già installate default ok diamo conferma effettuiamo l'installazione ci vuole qualche minuto per l'installazione però fino adesso ho problemi non mi ne ho dati dopodichè installeremo avendo installato il package python index installeremo le librerie aggiuntive python del simple cv ok finalmente ho finito ci sono voluti quasi dieci minuti per l'installazione di queste librerie ma non è finita dobbiamo installare un pacchetto che in realtà è scaricato e dobbiamo scaricarcelo da internet allora prendiamo tutto e scriviamo pip che è il pacchetto che abbiamo appena installato pip sbagliato install dobbiamo prendere questo pacchetto da internet quindi dobbiamo scaricarlo da internet http ttps due punti slash slash github punto com slash site machine macchine ho scritto giusto? sembra di si slash simple cv scritto simple cv maiuscolo perché non mi hai copiato lo slash ok start machine simple cv slash ce la faccio zip ball slash master se non ho sbagliato niente dovrebbe scaricarmi questo pacchetto sta scaricando quindi immagino che dovrebbe essere a posto se non ricordo mai dovrebbe essere sui 5 mega ricordo male fantastico ok mi ricordavo un 5 53 mega 7 meglio scaricati l'installazione non dura tantissimo dopo di che installiamo un'ulteriore dipendenza necessaria per il funzionamento del simple cv svg write svg write svg write si occupa della gestione del formato vettoriale delle immagini essendo un'estensione del linguaggio python lo installiamo sempre con il comando pip ok installazione del simple cv è stata eseguita ora installiamo questo pacchetto che non lo preleviamo più da lì svg write questo era un pacchettino vediamo se tutto va bene ok questo era un pelino più piccolo eccolo ok ora tutto è installato per verificare se tutto funziona vediamo se da qua me lo accetta dovrebbe succedere qualcosa dovrebbe venire fuori alcune informazioni qualcosa funziona eppure si muove la shell si apre informandoci sulla versione e presentando un riassunto di comandi per uscire per uscire digitiamo exit ok a questo punto abbiamo il nostro sistema che è perfettamente configurato per la computer vision se non sono venuti fuori errori possiamo direi di poter cominciare a fare un piccolo esempio per ricevere un'immagine dalla pcam e per leggerne il contenuto per fare una roba di questo tipo però io consiglio di installare questa libreria get install python pcamera ok questa libreria ci permetterà di utilizzare la pcam da python in maniera molto più semplice adesso che le librerie sono tutte installate noi ci vediamo il prossimo video dove cominceremo a sviluppare qualche programmino qualche piccolo listato per lavorare con la computer vision ciao alla prossima ciao ciao ciao